Cresce l'attesa per il ritorno della festa dei quattro altari in programma da venerdì 19 a domenica 21 luglio a Torre del Greco. Fervono i preparativi per l'allestimento degli altari previsti a Palazzo Baronale, Piazza Luigi Palomba, Piazza Santa Croce e Corso Garibaldi e dei tappeti esposti nelle chiese di San Filippo Neri, Madonna del Rosario e San Biagio, Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo e Palazzo Baronale. Questa mattina con le telecamere di TVCity siamo stati in via Salvatornoto dove nella chiesa di San Filippo Neri sarà esposto il tappeto che porta la firma del professore Raffaele Panariello. L'opera è stata realizzata con segatura e pigmenti di colore con il titolo Pace in terra agli uomini di buona volontà. Cosa rappresenta questo tappeto? Innanzitutto è un tappeto che vuole rappresentare un po' le guerre attuali, un po' quello che sta succedendo nel mondo, tutte le varie difficoltà che il popolo sta subendo, soprattutto i bambini e i propri bambini, soldati voglio rappresentati in questo tappeto. Poi chiaramente ci sono altri significati sempre per quanto riguarda il Corpus Domini, c'è il Papa che con l'ecoressia in mano sa rappresentare proprio il Corpus Domini. Alle spalle c'è il Palazzo Baronale che rappresenta un po' Torre dei Grechi, che è il riscatto baronale. Poi c'è la colomba che è simbolo dello Spirito Santo e anche della pace. Poi ci sono diverse bandiere che si uniscono sempre nel senso della pace, della Russia, dell'Ucraina. C'è la bandiera della pace stessa che rappresenta proprio la pace dei popoli. Da quanto tempo è in corso d'opera questo tappeto? Ci vuole un mesetto per realizzare, perché rispetto alle altari che si lavora un po' con il pennello, qua bisogna buttarsi a terra e lavorare minuziosamente per caduta di segature e pegamenti di colore. Sono molti anni che realizza opere di questo genere? Il primo tappeto l'ho realizzato nel 1996, per la prima volta. Poi chiaramente ho visto negli anni a dire come si lavorava, perché non si può improvvisare subito e immediatamente senza conoscere le tecniche. Perché è una cosa sapere disegnare, sapere lavorare con il chiaroscuro, è una cosa poi realizzare il tappeto con questa tecnica. Quindi ci vuole anni di esperienze e guardando persone esperte. E vuole fare un invito a venire a visitare questo tappeto e anche le altre opere Apertore del Greco? E' certo che invitiamo la gente a venire, altrimenti che facciamo? Soprattutto devono capire anche come si fa per i giovani, che c'è stato proprio un periodo morto che una generazione non conosce né la festa dei Quattartari, né come vengono realizzati i tappeti e i altari.